Mi hanno chiesto di fare una relazione oggi sulle malattie infettive e ho voluto interpretarla nella maniera più ampia possibile perché in questi due anni ci siamo trovati a curare noi medici liberi professionisti quello che il sistema sanitario nazionale non consentiva di curare e non curava di fatto perché i medici erano lati molti medici erano lati tanti e non andavano a seguire i loro pazienti come abbiamo curato? Abbiamo curato come dovrebbe fare ogni medico con rimedi naturali rispettando la febbre come rimedio naturale antivirale e utilizzando vitamina C, vitamina D, zinco, rame, tutti quei prodotti naturali che avevano documentazione scientifica come antivirale. Abbiamo svolto un servizio che avrebbe dovuto svolgere qualcun altro l'abbiamo fatto noi, siamo contenti di averlo fatto e sicuramente abbiamo salvato delle vite che con tachipirina vigilattesa non sarebbero state salvate. Siamo fieri di fare questo, ci riteniamo veri medici e invece siamo stati sospesi, qualcuno fortunato, radiati, qualcun altro meno fortunato. Oggi speriamo che ci sia una nuova rivalutazione di questo tipo di attività che abbiamo svolto e che possa essere per il futuro sempre più vicina al paziente e sempre più lontana da interessi che per la salute del paziente non hanno niente a che vedere. Grazie per la visione!